Guarda che bello qua, guarda che bello un attimo, guarda che bello qua un attimo, guarda che bello, ma via a vedere, ma che bello, la pineta, ti piace qua? Ti piace? Vuoi andare a casa o andare a fondo di poi pineta? Andiamo a casa, avanti, andiamo a casa dai, ma che bello, senti che lei è che c'è qua, si è vero, è piacevole, Sai che bello stare lì? E' piacevole perché, guarda questo, quando il sole è rovente, la gente viene qui a rinfrescarsi, la gente quando avvicinerà un po' il mare viene qua, a rinfrescarsi dal sole cuocente, eh sì, comunque questi due arrivano dalla Germania, sono miei, l'hanno fatto apposta, no, ho capito, no, fanno apposta, stanno andando a vacanza a fare, l'hanno fatto apposta di la pineta, certo, sì, per la gente qui, scottò, certo, perché si sa, Sai che, sai che è comunque qua, ha capito, alla fine...